Italia-Brasile, il viaggio parte da Gallarate. L'organizzazione di volontariato Maria Flos Carmeli Onlus, con sede in Largo Camussi, è impegnata in progetti di lotta alla povertà e di sostegno alle famiglie brasiliane più bisognose. Raccoglie fondi da destinare a San Paolo per finanziare l'asilo proprio realizzato grazie all'associazione 15 anni fa e che oggi ospita più di 150 bambini. Si tratta spesso di piccoli che vivono in situazioni di emarginazione e di povertà estrema e che hanno dunque bisogno di educazione, ma non soltanto. Necessitano anche e soprattutto di affetto e di calore umano. I bambini vengono affiancati nella loro crescita e vengono inseriti nel mondo del lavoro con corsi di vario genere. Un asilo nido. Siamo partiti per 15 bambini. Adesso sono 100. Abbiamo 115 bambini nella scuola elementare e 200 ragazzi che portiamo fino ai 18 anni. Quindi abbiamo 200 ragazzi che stanno facendo attività di panettiere, artigrafiche. Proprio educando i più piccoli, prosegue la Presidente, il tessuto sociale nella sua totalità migliora, fondandosi sempre più sui valori del rispetto e della legalità. Accompagniamo i ragazzi e proprio portandoli dalla scuola i ragazzi hanno un po' cambiato anche il tessuto sociale e quindi anche in realtà là stanno aiutando. L'Associazione Gallaratese propone eventi sul territorio per farsi conoscere. L'ultimo, qualche settimana fa, al Teatro del Popolo, organizzato in collaborazione con gli amici del Caffè Teatro. Ma l'Associazione ospita anche tutti coloro che lo desiderino, nella sua sede in centro città, dove è anche possibile scegliere dei libri lasciando un'offerta libera. Abbiamo una sede operativa in Largo Camussi 8 a Gallarate, dove riceviamo dei libri. Il tutto è nato perché i libri andavano a finire in discarica ed era una cosa che faceva proprio male al cuore. E abbiamo voluto mettere assieme le due cose, prendere i libri, dargli una nuova vita e mandare ricavato in Brasile. E io qui voglio ringraziare le 14 anche più volontarie che lavorano e si alternano.